Prevenire il ritorno della pandemia è ora l'obiettivo della sanità pubblica. Lo spiega l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, responsabile della Task Force per l'emergenza Covid in Puglia. Fondamentale, dice, per prevenire la seconda ondata è anche il senso di responsabilità dei cittadini. Rispetto alla fase 2, l'epidemiologo guarda come incoraggiante il comportamento osservato nei tanti cittadini che stanno facendo rientro nelle regioni del sud. Centinaia, ha detto, sono rientrati in Puglia e si sono autoregistrati sulla nostra piattaforma per dichiarare di essere rientrati e di essere messi volontariamente in quarantena per 14 giorni. Siamo molto contenti di questo spirito civico. Sulla questione tamponi precisa è diventato un argomento di propaganda in calza Lopalco. Io ne faccio di più e sono più bravo. È importante, quindi, sottolinea l'epidemiologo, che a livello nazionale arrivi una linea guida che stabilisca quanti bisogna farne, quando, a chi e quanti laboratori abilitati devono esserci sul territorio in base alla popolazione. Se si facesse questo sarebbe più facile anche lavorare nelle regioni. Bisogna uscire dal paradosso, aggiunto, che fare più tamponi sia sinonimo di sicurezza e prevenzione e tuttavia ne vanno fatti di più di quanti fatti in passato perché abbiamo visto persone che a casa con la febbre non venivano diagnosticate e non venivano rintracciati i loro contatti. I tamponi vanno fatti in modo mirato anche a tutti gli asintomatici entrati a contatto con persone con Covid. Contro l'emergenza, probabilmente, entro fine anno avremo un vaccino efficace. Ma a partire da questo momento, conclude Lopalco, se abbiamo stabilimenti pronti ci vorranno almeno altri sei mesi per avviare una produzione soddisfacente a garantirlo soprattutto alle fasce di popolazione più fragili che devono essere assolutamente protette.